Negli anni 90 e 2000, la sua attività di attrice si è concentrata maggiormente in televisione, dove ha preso parte a diversi sceneggiati di successo come Morte di una strega, lo zio d'America, i Cesaroni. Nel 2003 esordisce nella regia cinematografica, con Uomini e Donne, Amori e Bugie. Nel 2008 esordisce come attrice teatrale nella commedia Fiore di Cactus di Pierre Barillet e Jean-Pierre Gredi, per la regia di Guglielmo Ferro. Fiduciosa, ironica, il sorriso come antidoto alla malattia. Eleonora Giorgi sta combattendo contro un tumore al pancreas, è fisicamente provata, stanca, ma molto determinata. Lo ha raccontato ieri nel salotto di Verissimo, ospite da Silvia Tuffanin. Spero di tornare qui. I miei oncologi mi considerano un cyborg. L'attrice ha confessato di sentirsi debole, anche a causa dei trattamenti a cui si sottopone. La sesta chemioterapia è stata devastante. Nel mio caso, lo star male è una specie di disaffezione al cibo. Fatico a mangiare e se non mangi la chemia ti devasta. Il cancro è un mostro che, però, non affronta da sola. Perché può contare sul sostegno e sull'affetto dei propri cari. Vengo da una famiglia maschile. I maschi sono molto riservati nell'esprimere l'amore. I miei figli erano discreti, ma questa cosa che è successa ha rotto gli argini. Mi coccolano. Mi sono vicini. Sotto il profilo umano è straordinario ha spiegato. Sotto il profilo fisico reggo ancora. I capelli ce li ho. Li ho tagliati in modo folle. Ha poi aggiunto scherzando. Nel percorso di cura intrapreso, Giorgi ha dovuto affrontare anche alcune complicazioni. Ho avuto un'infezione a causa di un malposizionamento del port. Un dispositivo che è impiantato sotto pelle. Hanno dovuto rimuoverlo. Suturare. Ma è molto utile. Perché c'è sempre una via diretta. E non devo bucacchiarmi a sottolineato. Ho affrontato anche una polmonite inaspettata. E l'ho sconfitta.